Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Onkai Star Rail e oggi andiamo a trattare uno degli argomenti che personalmente parlando mi piace di più all'interno del gioco, ovvero il Simulated Universe. Simulated Universe che reputo essere al momento la meccanica più bella o comunque l'evento, chiamiamolo così, più bello presente all'interno del gioco. Perché non faremo altro che simulare dei dungeon, chiamiamoli appunto dei dungeon, dove il nostro scopo sarà quello di sconfiggere il boss man mano che ci potenzieremo all'interno del mondo affrontando nemici e facendo anche delle scelte per potenziarci o per affrontare dei nemici. Quindi avremo la possibilità comunque di gestire tutto quanto il nostro setup, di gestire i personaggi che utilizzeremo, di gestire i power up che riceveremo e soprattutto di potenziare anche i patti che avremo a disposizione man mano l'esplorazione del dungeon, chiamiamolo così, dell'universo simulato. Che cosa c'è da dire del mondo simulato o dell'universo simulato in questo caso? Al momento abbiamo soltanto sei mondi, sei mondi che praticamente verranno sbloccati non solo proseguendo con la storia, ma verranno sbloccati anche con l'aumento del nostro equilibrium, con l'aumento dei nostri personaggi e quindi di conseguenza sarà uno sblocco e una crescita graduale. Per quanto riguarda i primi due mondi, tecnicamente non c'è tanto da dire, perché comunque sono due mondi che servono quasi da tutorial, oserei dire. Il primo soprattutto, il secondo è leggermente più complesso, ma con i giusti accorgimenti il primo e il secondo mondo diventano veramente una passeggiata. E sono qui proprio per parlarvi oggi del primo mondo, perché capisco che magari qualcuno possa effettivamente avere delle difficoltà e voglia comunque qualche consiglio per affrontare questa situazione al meglio e quindi parliamo del primo mondo. Il primo mondo ovviamente ci permetterà di ottenere delle ricompense la prima volta che completeremo questo dungeon, io li chiamerò dungeon perché la parola che praticamente mi viene più vicina è il dungeon, quindi la prima volta che completeremo questo dungeon avremo a disposizione delle ricompense, che appunto verranno date solo la prima volta che lo completeremo, mentre invece all'interno del mondo simulato avremo la possibilità di ottenere altre ricompense sconfiggendo i nostri nemici o spaccando gli oggetti che troveremo in giro per la mappa. In basso a destra ci viene consigliato il livello con il quale affrontare questo primo dungeon, ovvero il livello 16, quindi veramente molto semplice e molto intuitivo anche dal punto di vista, proprio perché ci permette comunque di vedere il livello consigliato e quindi per iniziare un pochettino a dubitare anche della nostra possibilità di riuscita e quindi magari allenarsi, migliorarsi e poi successivamente affrontare il tutto con una consapevolezza diversa. Io infatti adesso comunque avendo i personaggi al 50 giustamente è decisamente overkill, cioè farvi vedere una run del primo mondo sarebbe alquanto ridicolo, proprio perché sarei fin troppo forte e quindi anche con personaggi tra virgolette sbagliati riuscirei comunque a portare a casa il risultato. Ma il gioco fa sì che dà dia delle informazioni importanti al giocatore, anche perché essendo questo il primo mondo, ovviamente non avendo la possibilità di poter pullare in maniera così eccessiva o anche in maniera così compulsiva, a meno che si scioppa o comunque ci siano di mezzo dei fattori esterni, chiamiamole così, ci consente comunque di dare un'occhiata non solo ai boss che andremo ad affrontare ma anche ai nemici elite che potremmo tecnicamente incontrare lungo la strada. Nemici elite che ci permetteranno comunque di avere dei potenziamenti migliori rispetto ai nemici normali e che probabilmente ci daranno anche qualche filo da torcere se non siamo equipaggiati al meglio. Cosa bisogna controllare subito entrati all'interno di questa schermata? Innanzitutto la raccomandazione del team, quindi bisogna avere comunque un team di livello 16 almeno in questo caso, ma nel primo mondo anche se siete livello 10-15, dipende ai personaggi che utilizzate, potete tranquillamente cavarvela. E poi successivamente abbiamo anche gli elementi raccomandati, elementi raccomandati che in questo caso abbiamo il quantum, il fisico e il vento. Quantum che ovviamente per chi possiede Zila avrà una strada spianata in modo pazzesco, proprio perché lei riesce letteralmente a divorarsi questo primo mondo quasi da sola, oserei dire. Il fisico perché così viene potenziato e viene anche gestito meglio il nostro Trailblazer come protagonista e viene valorizzato. E poi il vento che va comunque ad aiutare chi possiede Dunhang e chi possiede Bronia. Quindi se avete Dunhang o Bronia comunque sia avete un bel asso nella manica. I nostri nemici lit già li conosciamo, li abbiamo già visti all'interno del gioco e sono i Void Ranger, cioè la categoria dei Void Ranger, i Trampler, quindi quella sorta di centauro con l'arco gigantesco che praticamente vi targhetta, vi sciotta e poi vi brecca praticamente, vi stunna. Quindi è molto importante riuscire ad avere, se ce l'avete, Natasha con la possibilità di poter dispellare, anzi o per meglio dire esunari debuff, cosa che in realtà a livello 16 non potreste fare per una questione appunto di equilibrium e di break dei tratti che c'è che si sbloccano praticamente all'equilibrium successivo. Però paradossalmente avere anche un personaggio come 7 Marzo, qualora non si abbia un tank e qualora non si riesca a giocarsela al meglio, potrebbe essere comunque una buona idea, potrebbe essere comunque una soluzione, così come si è fatto praticamente nel tutorial, quindi all'inizio del gioco. Infatti uno dei team free to play che secondo me, o per meglio dire che io ho utilizzato praticamente per completare questo stage, se dovessi effettivamente utilizzare un team free to play utilizzerei sicuramente il nostro Trailblazer, però fisico ovviamente, Dan Hang, 7 Marzo e Natasha. Questo come team va assolutamente bene per questo primo mondo, non dovreste avere grosse difficoltà, anche perché potete breccare con il Trailblazer il boss di fuoco, dato che è debole al fisico e anche con 7 Marzo con i suoi counter riesce a perforare e poi successivamente con Dan Hang invece andare ad attaccare il gigante di ghiaccio. Gigante di ghiaccio che in questo mondo è probabilmente quello più fastidioso. È quello più fastidioso perché ha la capacità di poter frizzare i vostri membri del party e dato che non potete in un qualche modo, a meno che di strategie alternative, poter togliere i debuff dei vostri alleati, perdereste comunque un turno a causa del freeze. Quindi il mio consiglio è assolutamente quello di eliminare prima il vostro gigante di ghiaccio e poi focussarvi su quello di fuoco, che comunque sia è forte dal punto di vista dei danni ma sicuramente meno fastidioso dal punto di vista dei debuff. A questo punto io in realtà non saprei neanche se farvi vedere la run perché comunque sia il livello a cui sono arrivato adesso è decisamente troppo facile, quindi non so se mi conviene farvi vedere la run. Però dato che voglio fare comunque una guida, non mi interessa tanto farvi vedere quanto sia facile o difficile completare il mondo ma voglio darvi anche delle dritte anche dal punto di vista strategico proprio per farvi capire le meccaniche e come farvi giocare al meglio delle possibilità. Per cui lanciamo il mondo simulato. Ora io qua possiedo diversi patti che possiamo scegliere. I patti saranno un pezzo fondamentale del vostro cammino all'interno dei simulated universe. Per quanto riguarda i primi mondi in realtà a parte che non avreste tutta questa scelta però possibilmente se riuscite in un qualche modo a focalizzarvi potrebbe essere un'idea destruction in realtà perché comunque riduce il danno che viene subito dai nostri personaggi del 6% e poi incrementa la possibilità di trovare delle benedizioni, dei blessing della categoria destruction. Una volta che avremo trovato tre buff o comunque tre sinergie destruction sbloccheremo l'attacco speciale del patto, ovvero il patto resonance destruction dove praticamente si utilizzeranno 100 punti di energia per utilizzare questa abilità che infliggeranno dei danni di tipo fuoco a tutti quanti i nemici basandosi sulla differenza attuale di HP massimi e HP che praticamente possediamo di tutti quanti i nostri alleati. Quindi è una buona possibilità di fare dei danni che però ovviamente può aumentare quindi man mano che noi prenderemo patti di istruzione quindi andremo ad aumentare i patti di istruzione riusciremo a fare più danno. Preservation potrebbe essere anche un'altra idea perché se utilizzate degli scudi o utilizzate personaggi che danno scudo aumenterete la capacità di poter assorbire danno del 10% e inoltre incrementerete anche le benedizioni quindi i blessing della Preservation all'interno del gioco. Inoltre diciamo uno dei blessing Preservation che potrebbe rilevarsi molto comodo in questa fase del gioco è quello di effettuare Quake Damage ai nostri avversari quindi quando noi veniamo attaccati quindi quando un nostro alleato viene attaccato con uno scudo attivo praticamente reinfligge una quantità di danni pari a quelli che si sarebbero subiti come Quake Damage e questo è un patto o comunque un blessing in questo caso più che patto che sicuramente consiglierei. Inoltre dopo aver preso tre benedizioni della Preservation potrete sbloccare l'attacco che in questo caso consente di effettuare danni fisici a tutti i nemici basandosi sul totale degli scudi che praticamente è presente su tutti gli alleati. Quindi diciamo che utilizzare solo 7 Marzo per dare uno scudo solo non sarebbe il top perché qui ci vorrebbe per esempio un Jepard che appunto riesce a dare gli scudi a tutti quanti i nostri alleati quindi potrebbe in un qualche modo essere molto molto forte per fare tanti danni. Quindi il mio consiglio tecnicamente all'inizio sarebbe quello di Destruction per subire meno danni e per fare anche comunque una buona quantità di danno soprattutto fuoco che vi servono per battere il gigante di ghiaccio dato che qui personaggi fuoco non ne stiamo utilizzando per cui utilizzeremo il patto Destruction. Una volta entrati all'interno del Simulator di Universe io ora possiedo praticamente tre scelte mentre se non ricordo male all'inizio del gioco o comunque all'inizio ovviamente del nostro percorso se ne potranno scegliere soltanto due quindi scegliete bene che cosa volete ottenere. I Cosmic Fragments che cosa servono? Sono questa valuta che vedete qui in alto a destra che potete spendere praticamente per potenziare i Blessing che otterrete all'interno del nostro dungeon quindi fate molta attenzione a quanto accumulate e soprattutto dove li spendete. Successivamente possiamo consumarne 50 per ottenere un Curio anche se il Curio è presto per poterne parlare perché il Curio o comunque gli equipaggiamenti in questo caso vengono sbloccati più avanti quindi questo per il momento lasciatelo perdere oppure ottenere automaticamente il vostro primo Blessing con una sola stella di qualità quindi diciamo un Blessing di base giusto per cominciare quindi otteniamo il nostro primo Blessing che in questo caso come potete vedere abbiamo diversi patti che possiamo seguire per potenziarci. Togliete subito il Brief Description perché come potete vedere se tenete attivo il Brief Description non avrete le percentuali a schermo mentre invece è molto comodo avere le percentuali a schermo anche per farvi dei calcoli su come funziona più o meno il gioco e su come funzionano più o meno i vostri patti. Ora in questo caso all'inizio io consiglio sempre di focalizzarvi sul patto che avete scelto quindi in questo caso noi mettiamo Destruction visto che noi abbiamo preso il patto della Destruction e quindi continuiamo e siamo all'interno della nostra prima tappa quindi iniziamo a spaccare un po' di oggetti per prendere magari qualche ricompensa qualche cosa e iniziamo il nostro combattimento cerchiamo di attaccare sempre noi per primi ovviamente noi siamo decisamente più forti rispetto al normale infatti disintegriamo praticamente tutti ma è normale io vi ripeto non sto facendo questo video per flexare la facilità con cui sto giocando ma per darvi un'indicazione anche tattica sul come giocare e sul come diciamo svolgere al meglio questo tipo di meccanica di gioco anche in questo caso come potete vedere abbiamo altri tre patti che vengono ottenuti ogni volta che sconfiggiamo un nemico e la cosa importante da sottolineare è che qui avendo sconfitto due nemici linkati che quindi erano praticamente insieme con due wave avremo la possibilità in teoria di sceglierne due di blessing quindi in questo caso continuiamo a potenziare il nostro path of destruction e come potete vedere adesso ne prendiamo praticamente un altro in questo caso non abbiamo nessun path of destruction non guardate qui sotto dove è possibile resettare i blessing perché questa è una meccanica che si sbloccherà più tardi all'inizio del gioco non ci sarà quindi non tenetela in considerazione un altro fattore che potrebbe farvi scegliere il blessing da prendere dopo un'ondata di nemici potrebbe essere questo libro aperto perché il libro aperto cosa vuol dire? vuol dire che praticamente noi non abbiamo ancora sbloccato la descrizione o comunque non abbiamo inserito nella collezione questo tipo di blessing quindi se vi capita e magari state farmando dei punti anche perché si prendono delle gemme tramite la collezione dei blessing vi consiglio appunto di prendere quelli che magari non avete sbloccato giusto per prendere e avere la possibilità di farmare qualche gemma in più andiamo ancora avanti altro combattimento ci saranno diversi livelli chiamiamoli così di gioco che vi consentiranno di accedere a diversi strati del livello e poi successivamente affrontare il boss ecco questo non l'ho sbloccato tra l'altro è anche destruction quindi lo prendiamo una volta presi i primi tre patti prendiamo praticamente la risonanza e l'attacco speciale del patto della distruzione quindi abbiamo ottenuto il nostro patto della distruzione e qui come potete vedere appariranno alla fine del livello chiamiamolo così dei portali portali che vi potranno portare ad uno scontro in questo caso con il nemico elite oppure quando apparirà dall'altra parte la possibilità di effettuare delle scelte effettuare delle scelte che vi daranno più o meno bonus e vi permetteranno anche di poter potenziare i blessing che avete già ottenuto in questo caso noi siamo obbligati ad andare dal nostro elite che già vediamo lì bello pronto essere il nostro centauro praticamente utilizziamo gli attacchi e facciamolo fuori e come potete notare adesso che abbiamo praticamente il blessing della distruzione qui sulla destra col tasto R possiamo sfruttarlo quando caricheremo l'energia in base ovviamente a quanto ne caricheremo per sfruttare l'attacco che appunto abbiamo detto poco fa ora non ne ho bisogno io di farlo adesso però lo faremo a breve e in questo caso come potete notare avendo sconfitto un nemico elite prendiamo addirittura un blessing da tre stelle che al momento credo che sia quello migliore perché non ho visto blessing da 4 o 5 stelle quindi va bene così in questo caso andiamo ancora con destruction visto che è il nostro patto e qui vabbè qui siamo entrati in un argomento che sinceramente all'inizio dei primi mondi non sicuramente non incontrerete e non sbloccherete perché questa è una meccanica che per l'appunto verrà inserita e verrà introdotta più avanti i curio cosa sono i curio? se avete dimistichezza con i souls like o avete dimistichezza anche con i roguelike un po' come The Binding of Isaac o giochi del genere possiamo sintetizzare i curio come i perk quindi come se fossero appunto degli equipaggiamenti permanenti che dureranno fino alla fine del dungeon e che ci consentiranno di avere un bonus ovviamente potete scegliere la vostra descrizione e in base alla descrizione ve ne scegliete uno che ovviamente vi darà il vantaggio che state cercando ora in questo caso io praticamente mi prendo questo perché tanto non l'ho sbloccato gli altri li ho già presi e non mi interessano quindi andiamo avanti quindi dopo essere entrati in battaglia rigenera l'energia del patto della risonanza al massimo e incrementa il danno della risonanza al 40% quindi questo è un accessorio chiamiamolo un perk eccezionale altro portale che come potete notare abbiamo martello in cudine perché qui abbiamo il nostro pit stop chiamiamolo così quindi un'area di sosta dove sarà possibile recuperare l'energia sia quella viola per le tecniche che quella verde per gli HP proprio per darci una sorta di safe room qui sarà possibile riportare in vita i personaggi che moriranno durante l'esplorazione del dungeon però questa è una meccanica che si sbloccherà più avanti e qui invece abbiamo il downloader che è praticamente uno strumento che ci consente di poter chiamare un altro dei nostri personaggi all'interno della battaglia qualora volessimo effettivamente modificare la nostra strategia perché è questo? perché potremmo magari sfruttare un personaggio per gli incontri casuali e per gli elite che incontriamo praticamente durante la mappa e poi sostituirlo con un altro personaggio che potremmo sfruttare di più all'interno della battaglia finale ora io per fare un esempio qui potrei tranquillamente chiamare Gepard per esempio Gepard e sostituirlo poi a 7 marzo perché giustamente come tank preferisco magari avere lui e riuscire anche ad avere dei danni che mi interessa avere rispetto a 7 marzo ora qui portiamoci un personaggio a caso che non utilizzeremo oggi magari mettiamo Serval così giusto per tanto non la utilizzeremo e come potete notare Serval è joinata nel party quindi se noi andiamo nella configurazione del party da questo momento in poi possiamo sostituire i nostri personaggi con Serval perché adesso fa parte del nostro roster ovviamente più zone riusciremo a trovare di sosta come queste e più personaggi riusciremo appunto ad allaudare e quindi portare all'interno del party Herta ci darà la possibilità di potenziare ci darà la possibilità di potenziare o la possibilità di fare altre robe man mano che le incontreremo all'interno di questi dungeon e infatti come potete vedere abbiamo la possibilità di potenziare due Blessing randomicamente con 180 Fragment Coin ecco perché sono importanti da ottenere oppure potenziarne uno di una stella per soli 80 in questo caso ne potenziamo due a caso quindi ne potenziamo uno e due e dopodiché la nostra Herta sparisce e noi possiamo andare avanti combattimento come potete vedere qui abbiamo invece il dungeon quindi abbiamo un piano completamente nuovo dopo Elite è il combattimento singolo mentre invece Combat è praticamente l'esplorazione del piano quindi noi continuiamo ovviamente ad andare avanti in maniera estremamente rapida qui non abbiamo nessun patto di Distraction quindi leggiamo ovviamente i personaggi con lo scudo aumentano il Crit Rate i personaggi con lo scudo prendono il 16% di danni in meno e quindi direi che questo è assolutamente consigliato almeno per ora i primi diciamo che le prime fasi di gioco ovviamente giocare un po' più difensivi quindi non è mai un errore non è mai un errore anche perché il patto Preservation ha delle combinazioni molto molto belle quindi potrei anche consigliarvi di giocare Preservation per i primi due mondi se devo essere onesto e poi iniziare a cambiare la strategia dal terzo mondo in poi qui abbiamo un altro anzi no questo è Remembrance quindi non c'entra niente col nostro però mi manca quindi tanto vale che me lo prendo per il momento ovviamente leggete sempre gli effetti perché leggere gli effetti è sempre la cosa giusta da fare e qualora ovviamente trovate degli effetti che a vostro avviso possano essere buoni ovviamente utilizzateli e ovviamente sfruttateli io sto cercando anche di andare un po' più avanti per non perdere troppo tempo qui sono tutti che mi mancano però questo ha due stelle e ovviamente lo prendiamo qua abbiamo praticamente la stanza delle occurrence dove praticamente può diciamo subentrare un evento casuale un combattimento un potenziamento una stanza di sosta eccetera eccetera ecco come potete vedere qui abbiamo il nostro evento casuale evento casuale che una volta letta la descrizione ci permette praticamente di vedere e fare la nostra scelta in questo caso che cosa c'è ottenere un negative curio e 300 cosmic fragment oppure ottenere solo 100 cosmic fragment quindi per il momento non rischi anche se lo potrei rischiare però in questo caso va bene ci è andata bene e quindi possiamo continuare stanza di respite quindi stanza di riposo in questo caso possiamo nuovamente recuperare le nostre energie downloadare un nuovo personaggio in questo caso ci portiamo asta tanto non le utilizzeremo non sto portando neanche 5 stelle proprio per farvi vedere proprio il gioco da free to play in teoria anche se io già sono molto livellato me ne rendo conto ma vi ripeto serve solo a darvi un'idea di come giocare strategicamente in modo corretto all'interno di questa fase di gioco Hertha che ci consente di potenziarci quindi andiamo a vedere un pochettino l'enancement screen questo è praticamente l'enancement screen però un manuale quindi non abbiamo Hertha che ci dice dammi i fragment e io ti potenzio due carte a scelta qui abbiamo praticamente noi la possibilità di potenziare quindi potenziamo quello da 3 e poi successivamente andiamo a potenziarci un altro come questo ovvero che prendiamo meno danni perché ci sarà molto utile soprattutto contro il boss e ce ne possiamo andare e a questo punto porta finale che ci preannuncia il boss quindi domain boss una volta entrati nella sezione del boss vi consiglio di potenziarvi quindi se avete dei personaggi che hanno delle tecniche di power up fatelo in questo caso io non ho praticamente nessun altro quindi posso utilizzare qualsiasi per fare un po' di danno in più però con Dun & Hang mi posso potenziare un po' ecco qua e qui comincia la boss fight quindi iniziamo a combattere i nostri boss ovviamente io faccio i danni incredibili il mio consiglio è quello di focusarvi prima su quello di ghiaccio perché è quello più fastidioso una volta che avete la situazione in mano vedete potete fare l'attacco speciale con la vostra summon chiamiamola così perché è come se fosse una sorta di invocazione io giustamente non ho fatto niente di danni perché i miei personaggi hanno tutti gli HP ma qualora iniziassero a perdere gli HP avremmo la possibilità di fare molti più danni qui ovviamente siamo decisamente forti come e praticamente completiamo il nostro mondo numero uno e una volta completato il mondo ovviamente in questo caso io non vengo buttato fuori automaticamente perché l'ho già finito ma la prima volta ovviamente completato il mondo potete uscire e in questo caso ne abbiamo l'uscita e poi successivamente la schermata finale con lo stampo appunto di aver completato con successo il mondo tutti i blessing che abbiamo utilizzato qualora volessimo condividere la strategia con i nostri amici con i nostri in generale con la nostra community con chi volete voi i curio che ovviamente abbiamo ottenuto e che abbiamo equipaggiato anche per fare una sorta di pseudo build i punti che abbiamo ottenuto per sbloccare l'albero che vedremo tra poco l'albero praticamente delle skill e delle funzionalità in più del gioco e i punti che si vanno a farmare settimanalmente per ottenere diverse ricompense queste sono le stanze quindi 7 su 7 completate world 1 completato e il bollino di certificazione di Hertha quindi siamo usciti e come potete vedere abbiamo completato il primo mondo cosa abbiamo ottenuto come punteggio e come tutto il diciamo e come tutto l'ambaradan all'interno della partita i punti che si vedono qui sopra quindi points on clearance che sono 800 punti si vanno ad aggiungere a questi allo score settimanale quindi ogni settimana avrete la possibilità di accumulare questi punti per poter ottenere delle ricompense aggiuntive quindi a 350 700 1050 eccetera eccetera otterrete diversi punti questi punti sono farmabili completando lo stesso mondo più volte oppure aumentando poi successivamente la difficoltà come sarà possibile fare dal mondo a partire dal mondo 3 in su quindi io per ora non lo posso fare perché mi serve l'equilibrium 3 io ancora l'equilibrium 3 non l'ho fatto quindi ho fatto soltanto la parte la parte prima il primo mondo ma la parte 2 devo avere l'equilibrium livello 3 quindi per ora ancora nada gli altri punti che abbiamo ottenuto abbiamo ottenuto ovviamente dalla ricompensa del completamento questi oggetti che sono ovviamente i ticket per poter pullare le gemme punti per il nostro rank per il nostro trailblazer rank e poi i ticket dorati che però si utilizzano nell'Herta Store Herta Store che ci consente di acquistare addirittura 3 armi 5 stelle in maniera totalmente gratuita biglietti per il banner quello standard e poi anche il superimposer superimposer che è un gadget speciale che ci permette praticamente di che ci permette praticamente di power upare in questo caso quindi mettere un limit break chiamiamolo così a queste armi quindi noi possiamo comprare le armi all'interno dello shop e poi fare il refine per utilizzare un linguaggio magari più diciamo per utilizzare un linguaggio appunto più più comprensibile alle varie armi quindi possiamo potenziarle praticamente con solo due biglietti alla volta quindi molto 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 comodo i consigli che vi posso dare io su quale armi prendere in realtà mi piacciono tutte probabilmente quella della destruction è forse quella migliore a mio avviso ma secondo me comunque per essere gratuite tutte cinque sono cinque stelle gratuite vanno bene tutte quindi io non vedo l'ora di prendere questa preservation per jepard perché non ho armi per lui quindi lo sto utilizzando proprio alla modalità meno peggio quindi spero di prendere quest'ultimo ticket e prendere finalmente quest'arma successivamente abbiamo gli index che come vi ho detto prima gli index ci permettono di ampliare la nostra collezione quindi man mano che noi incontreremo le divinità con appunto i patti che sfrutteremo all'interno del gioco i blessing che troveremo man mano che appunto visiteremo i vari livelli e i curio che sono appunto quei perk quegli equipaggiamenti che troveremo man mano all'interno del gioco verremo ricompensati infatti come potete vedere ogni qual volta ne troveremo di nuovi avremo la possibilità di ottenere delle gemme quindi ogni volta che sbloccheremo un tot di blessing della categoria in questo caso sbloccheremo delle ricompense in gemme stessa cosa per i curio quindi quando prenderemo per la prima volta i curio che ci verranno ovviamente offerte all'interno del gioco otterremo altre ricompense di gemme quindi se volete semplicemente farmarvi i curio e volete farmarvi ovviamente anche i blessing magari fate un mondo che avete già fatto e sono comunque delle gemme gratis e poi infine abbiamo l'albero delle abilità l'ability tree quindi classico albero delle abilità che conosciamo praticamente in qualsiasi gioco di ruolo che man mano riusciamo ad accumulare i punti quindi completando i mondi e diciamo completando anche determinate sfide che possiamo incontrare all'interno dei mondi verremo ricompensati e potremo attivare dei bonus e dei vantaggi all'interno del gioco comunque all'interno del simulated universe per renderci le cose un po' più semplici ovviamente non sono dei vantaggi scandalosi o almeno per ora io non ho trovato vantaggi scandalosi però sono comunque dei piccoli vantaggi che possono fare la differenza infatti in questo caso ora tutti i blessing del trailblaze sono praticamente già potenziati quindi se noi abbiamo il trailblazer nel party tutti i blessing che utilizziamo per lui è come se fossero già powerappati quindi utilizziamo questo lo sblocchiamo e poi qui come potete vedere ci vorranno altri 150 ticket o comunque altri 150 dischi in questo caso per prendere anche delle abilità passive quindi hp aumentati difesa aumentata attacco aumentato eccetera eccetera fino ad arrivare ovviamente alla fine e prendere tutti i vantaggi possibili immaginabili per per aiutarci appunto nelle esplorazioni anche delle difficoltà successive ovviamente dei vari mondi perché come vi ho detto a partire dal mondo 3 e con l'equilibrium 3 avremo la possibilità di praticamente incrementare anche la difficoltà e come potete notare man mano avremo anche dei drop e delle ricompense diverse per il resto credo che non ci sia altro da dirvi ci sarà ovviamente poi da parlare con il mondo 2 farò anche una run sul mondo 2 per farvi vedere come funziona farò anche la run del mondo 3 per farvi vedere come funziona strategicamente parlando e quindi per il resto non credo di dovervi dire altro vi ricordo che ovviamente i personaggi che abbiamo all'inizio sono validissimi quindi cercate di potenziarli e cercate di sfruttarli nel migliore dei modi possibili e quindi spero che comunque questa guida in generale possa esservi di aiuto mi sono dilungato un pochettino ma spero che ovviamente la mia meticolosità possa essere diciamo compresa da chi vuole effettivamente imparare bene le regole del gioco detto questo ci vedremo successivamente con il mondo numero 2 io vi aspetto anche in live sul mio canale Twitch vi lascio tutto in descrizione qui sotto nei video se volete se volete seguirmi c'è anche Discord Instagram tutto quello che volete per rimanere in contatto con me detto ciò non ho altro da aggiungere spero che il video possa esservi stato utile e noi ci becchiamo alla prossima bye bye ciao 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 Grazie a tutti.